Il brano secondo me ci accompagna a ricordare un gigante che è Ennio Fantastichini, un grande attore per cui adesso ci collegheremo con un regista spagnolo che è l'organizzatore di questo evento di sabato al Teatro Biondo dove si ricorderà appunto Ennio Fantastichini. Io ho preparato anche un bel video Eliana, lo faremo vedere su Facebook. Facciamo vedere al prossimo blocco? Quanto dura il video? Credo due minuti, un minuto e cinquanta. Lo vuoi vedere subito o lo vuoi vedere dopo? È tratto da una intervista che ha fatto una delle ultime interviste che ha fatto Fantastichini. Lo vogliamo vedere subito così introduciamo l'argomento? Come vuoi. Vediamolo. Allora, buongiorno Ennio Fantastichini, attore di cinema, televisione, di teatro, l'età la possiamo dire, 62 anni, quasi mezzo secolo di attività artistica? Quasi mezzo secolo, qualche anno di meno, ho cominciato a 15 anni, togliendo il tempo alla mia adolescenza e impiegandolo al lavoro, ma come grande privilegio. E anche con tante soddisfazioni. Lei ha visitato anche con Gian Maria Volontè? Sì, ho avuto l'onore e il piacere di fare due film con il maestro. E sono stati i miei film, diciamo, il primo sicuramente più importante che era Porti Aperte, il film di Gianni Amedio. Amedio. Io andrei a vedere indagini su un cittadino di sospetto e là ho pensato dentro di me, vorrei tentare di fare questo, di fare questo lavoro. Poi bisogna avere dei punti di riferimento, dei mentori, come dice lei. Credo assolutamente, sì, e lo è ancora, mi manca molto, ma lo è ancora, rimane ancora una pietra miliare nella mia vita. Prima di parlare di Reliera e quindi tutti gli spunti che ci dà questa opera di Shakespeare, le chiedo, esistono ancora dei mentori oggi? Ci sono i mentori? Io credo che questo attraversi la formazione, no? La mia generazione aveva un rapporto con la formazione molto importante. Forse a volte eravamo troppo ideologici, a volte eravamo anche rigorosi e razzisti rispetto ad altre culture, sia a sinistra che a destra. Però questa era una cosa importante, avere un esempio da seguire e avere qualcuno a cui guardare. Io credo che questa cosa si stia fortemente perdendo oggi, cioè che sia più vaga, ecco, almeno in questo senso vorrei dire. Poi c'erano i buoni e i cattivi maestri, diciamo, potremmo dire, no? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, buoni e cattivi maestri. Prossimo ospite, ce lo introduci tu? Sì, è un regista, è un regista spagnolo, si chiama Gian Diego Puerta Lopez. Ben arrivato! Buongiorno! Buongiorno, buon lunedì! Grazie, grazie Gian. Abbiamo fatto vedere, prima di collegarci su Facebook, un pezzo di una delle ultime interviste che il grande, l'immenso Fantastichini ha rilasciato ad Andrea Pancani di La Sette nel 2017. Era un po' un'intervista commemorativa dei suoi 50 anni di attività artistica e mi è piaciuto molto ritagliare quel frammento dove lui parla dei buoni maestri. Gian, credo che ti abbia molto ispirato l'intera opera, l'intero lavoro di Fantastichini a realizzare questo grande evento di cui ti dico subito di parlarne per sabato qui a Palermo al Teatro Biondo. Bene, buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì a tutti che ci ascolta. Intanto non sono spagnolo, sono colombiano. Scusami. È importante. Però, bene, comunque parlo sempre spagnolo. Bene, io ho aderito a questa iniziativa per fare questo omaggio a Neo Fantastichini che ho trovato, non l'ho conosciuto personalmente, ma ho tanti amici in comune. È veramente un attore straordinario, ricordato da tutti, dal cinema. Non era un attore, è un attore anche molto, anche De Niche, le sue scelte sono state molto precise nel cinema e quello che faceva. E mi ha chiamato Marta Bifano che ha creato questo premio insieme a Francesca Pedrazza. Hanno creato questo premio per omaggiare il nostro grande attore Fantastichini. E ho aderito volentieri a questa iniziativa. Quando mi hanno chiamato come ospite ho detto, però non voglio essere il solito ospite che arriva in una serata di omaggio, vorrei fare qualcosa di più. Poi approfittando che vengo a una città come Palermo, che trovo fantastica ogni volta che arrivo e c'è un'energia, un'atmosfera quasi che mi ricorda il mio paese in Sud America. Allora ho detto perché non facciamo qualcosa di più, il fatto che vengo a Palermo. Allora ho lanciato questo concorso per i giovani dai 18 ai 30 anni e una sfida di fare un cortometraggio in 24 ore. I ragazzi non sanno ancora qual è il tema e l'indicazione. Verrà sbellato il giorno 15 a me soggiorno a chi si iscrive e il tema da sviluppare e alcune indicazioni per girare questo cortometraggio in 24 ore come sfida ai giovani. Sfida tosta è una sfida tosta e tra l'altro permettimi Eliana anche questo è un atto d'amore cioè lasciare giovani filmmaker liberi nella loro creatività assegnando loro un tema e andando a spaziare in contesti se vuoi anche antropologici sociologici ritorna all'operazione culturale credo che sia un grande dono che fai anche alla città e al territorio e ai suoi abitanti. Sì perché comunque come dicevo dico sempre noi dobbiamo noi artisti che abbiamo già fatto il percorso dobbiamo popolare molto i giovani che sono poi il futuro il futuro pubblico dei nostri lavori del teatro del cinema è importante perché e poi non solo questa sfida di 24 ore perché dalle possibilità che i giovani in poco tempo scrivono una storia la girano poi fanno la post produzione fanno il montaggio e oggi come oggi è interessante come in poco tempo riesce a trarre fuori una tua creatività ormai Sicuramente c'è della tecnologia che permette questo post di tutto questo Devi scriverlo, girarlo, montarlo e chiuderlo cioè è un'operazione molto completa Qualche anno fa sarebbe stato impossibile Oggi giri col telefonino Sì infatti oggi con il telefonino fanno delle cose incredibili I miei nipoti fanno delle cose meravigliose dove io neanche riesco ad arrivare Solo perché ci insegna Guarda una settimana fa avevamo ospite il giornalista Lorenzo Tondo mi raccontava di suo figlio piccolissimo che realizza i video in stop motion ma stiamo parlando di un bambino che non ha neanche 10 anni e realizza questi mini video quindi ci sono veramente tecnologie che permettono di fare delle robe pazzesche Qui stiamo parlando però di un livello ovviamente avanzato dove la creatività deve fare la sua parte ancora prima di quelli che sono i supporti tecnologici e quindi questo fa una grandissima differenza Abbiamo la musica a tenerci come sempre compagnia fra una chiacchierata e l'altra Noi restiamo in collegamento streaming sulla pagina Facebook di The Radio Inn con Juan Diego Puerta Lopez e da lì continuiamo a chiedergli un altro po' di cose su questa serata mentre alla radio ascoltiamo Bruno Mars Però vorrei uscire se me lo concedete un po' fuori tema vorrei capire se ricollegandoci anche a quello che abbiamo visto prima visto che Juan Diego prima ha fatto anche un bellissimo complimento alla nostra città di Palermo Hai avuto modo di vedere questo spot Red Bull girato a Palermo con la monoposto della Formula 1 che girava per le vie della città? No Non l'hai visto ancora? Ok, no, ti suggerisco di andarlo a cercare su YouTube Red Bull Palermo lo trovi subito, ti mandiamo il link Ero curiosa di sapere appunto da un regista del suo calibro anche il suo parere ma lo rimandiamo al prossimo appuntamento Lo risentiamo Juan, chi partecipa a questo concorso che è appunto il video short H24 il lavoro poi sarà mostrato sicuramente al Teatro Biondo mi parlavi della presenza di Alessandro Preziosi e di altri importanti artisti Sì, allora Alessandro Preziosi presenterà la serata e verrà anche premiato Ivan Cotroneo che è un sceneggiatore importante tipo tante serie televisive ha collaborato anche con Fersanospite poi ci saranno tanti ospiti che stanno aderendo avvenendo alla serata ci sarà anche una persona che io almiro molto che ho conosciuto l'anno scorso a Pantelleria poi siamo rimasti in contatto lei si chiama Fiametta Borsellino la figlia del giudice Paolo Borsellino è importante perché lei è molto impegnata anche nel sociale l'anno scorso ho fatto uno spettacolo su Rita Atria che poi era questa ragazza che si è vicinata molto giovane che era portetta da Paolo Borsellino una volta che Paolo è successo quello che è successo sappiamo tutti lei poi ha detto ho perso mio padre praticamente adesso non c'ha più senso di vivere e lascia questa lettera bellissima io ho fatto l'anno scorso un omaggio con questa lettera Fiametta Borsellino è venuto allo spettacolo e questo anno ho aderito per fare presenza per consegnare il premio alla migliore squadra hai fatto bene a ricordare Pantelleria dove quest'estate è stato ricordato Fantastichini anche in un contesto importante torniamo in FM questo era Skate di Bruno Mars ancora ben trovati dai Maschinardo e Deliana Chiavetta all'interno di Open Day Cinema su Radio In siamo in collegamento con il regista Juan Diego Puerta Lopez stiamo raccontando un appuntamento che si terrà sabato al Teatro Biondo che ricorderà Ennio Fantastichini ma che contemporaneamente darà modo anche alle nuove leve di mettersi in mostra di mostrare quello che sono in grado di fare in 24 ore quindi una sfida lanciata da un professionista che già vedo guarda come sorride cioè alla faccia di chi dice voglio vedere che cosa saranno in grado di fare ti garantisco che escono dei lavori bellissimi abbiamo fatto altri esperimenti con i miei studenti del centro sperimentale e poi rimane veramente un dono di 6-7-10 corti per la città che diventano anche veicolo di promozione culturale e turistica come no sì infatti vabbè è un formato che non ho inventato io che già esiste nel mondo e addirittura esistono anche festival che 12 ore solo come no anche 24 e poi 48 ore sconsigliato per chi soffre di ansia senti chi vince il contest Juan cosa vince allora chi vince il contest intanto come dicevate voi prima sarà questa serata il 18 al Teatro Biondo diretto da Pamela Villoresi una grande attrice amica meravigliosa e la presenza di tanta gente nel mondo del spettacolo della politica eccetera e praticamente si era otorgato un riconoscimento un trofeo e poi dopodiché questo porto l'idea è che attraverso l'intenzione della cultura della politica siciliana questo video possa girare ovunque ovunque vuoi dire in tutti i social e in tanti festival di poter promuovere questo lavoro che nasce da un contesto meraviglioso come il contesto palermitano questa è l'idea di dare una distribuzione e una visibilità vera e propria che è un'idea vincente a noi piace tanto è un'idea vincente che dà l'opportunità a un giovane filmmaker di potersi mettere in mostra di poter collezionare un lavoro nel suo book poi di presentazione per attività lavorative e per esperienza ti dico che se mettevate in palio anche una telecamerina o un microfono un supporto per il filmmaker diventa miele ancora di più per i filmmaker e ti dico che in altri contesti veramente funziona funziona tanto e sono certo che sarà veramente un successo bene e poi diciamo la cosa bellissima è che comunque questi giovani di oggi veramente hanno una creatività pazzesca nel senso che non è vero che i giovani queste generazioni sono perse tutti si lamentano di questi giovani di oggi il mondo è cambiato siamo cambiati e bisogna accettare questi cambiamenti e poter renderli oggi in qualche modo la loro forza avere possibilità io sento sempre la gente anche più grande di me che dicono sempre questi giovani sono tutti persi c'è una disperazione qualcosa di molto una preoccupazione per i giovani però secondo me il mondo è cambiato bisogna capire questo cambiamento e poter inserire loro in questo contesto anche creativo e poter ascoltare loro e siamo noi che dobbiamo anche in qualche modo adattarsi e ascoltare questi cambiamenti e venire incontro a queste nuove idee a questi sviluppo trasformazioni dell'umanità allora io penso che non è così terribile ma siamo noi che dobbiamo anche avvicinarsi un po' al loro mondo e non tenerli come persone strane che non le capiamo invece bisogna inserirle dentro dentro un contesto dentro un dialogo è importante questo integrare due punti di vista uno di esperienza uno di freschezza e così viene fuori poi quel mix che contiene tutto e che è vincente veramente noi ti ringraziamo Juan Diego Puerta Lopez per essere stato qui con noi quest'oggi e ovviamente ricordiamo l'appuntamento di sabato al Teatro Biondo in memoria di Ennio Fantastichini grazie ancora vi ricordo solo ai giovani che fino a domani a messa notte hanno la possibilità di compilare il modulo e tra l'altro l'escrizione è gratuita e nella pagina www.eniofantastichini.it trovano tutto tutto il modulo e tutto il regolamento di come scriversi allora vi aspetto in tanti grazie grazie ancora grazie Juan al link che abbiamo inserito nella nostra locandina e quindi c'è tutto c'è tutto bisogna soltanto armarsi di un pizzico di coraggio e lanciarsi noi dobbiamo lanciare adesso la pausa pubblicitaria torniamo fra poco sempre con Open Day Cinema su Radio In grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti